Sta per tornare a Pesaro la mezzanotte bianca dei bambini con la sua 14esima edizione, che quest'anno sarà in programma nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 agosto. Confermata la location della Piazza del Popolo, si aggiungono come novità dell'evento anche altri luoghi suggestivi della città ed un percorso comune con Pesaro, capitale italiana della cultura. 14esimo anno per la mezzanotte bianca dei bambini, facevo una riflessione, 14esimo anno vuol dire che chi aveva 10 anni il primo anno adesso ne ha 24, è grande e probabilmente comincia a pensare di fare dei figli da portarci, perché poi la mezzanotte bianca dei bambini, questo grande appuntamento sicuramente non finisce qua. Andiamo avanti, questo grande contenitore che chiude la stagione estiva, nella quale comunque sono state tante le opportunità per le famiglie e per i bambini di vivere momenti dedicati a loro nella città, naturalmente invece si arriva a questo gran finale, un gran finale nel quale il centro storico e non solo si trasforma in un grande parco giochi, attività, intrattenimenti, laboratori e tutto quello che può far star bene. Ecco, questa è un po' la chiave. La chiave importante è che non ci sono tensioni, sorrisi, divertimento e situazioni molto molto rilassate in uno spazio che prevede sia momenti da palco, con la novità quest'anno del palco circolare intorno alla biosfera e attività, laboratori sparsi nel centro storico, abbiamo anche delle dependance un po' fuori zone, insomma c'è veramente tanto al punto che sarebbe anche difficile poter elencare tutto in un programma a voce in questa sede, per cui vi rinviamo a seguire i social sia del Comune di Pesaro che quelli dedicati alla mezzanotte bianca dei bambini per non perdere nessun appuntamento, ma ovviamente il consiglio migliore col quale posso concludere è di venire il 30 e il 31, venerdì 30 e sabato 31, dalle 18, prendervi quel tempo per stare con noi, a seguire tutte le attività e a trovarle magari con l'ausilio della mappa che daremo quel giorno allo Sparvy Point. Uno o due giorni che abbraccia il venerdì e il sabato, questa è una cosa ragionata anche con i commercianti perché si ritiene che sia il momento di massima spinta rispetto al pubblico della mezzanotte bianca il venerdì e il sabato, poi chiaramente soprattutto per chi viene fuori ci sarà la possibilità di proseguire nella domenica, nell'attività che toccano anche i musei, toccano tutte le realtà che partecipano anche alla capitale della cultura, quindi sarà anche una Pesaro 24 experience sia per i pesaresi sia per chi viene da fuori perché tante delle progettualità che sono confluite nella capitale vengono riproposte e sintetizzate in questi due giorni per le famiglie e vorrei che poi se le possano ritrovare in giro per la città anche nel resto dell'anno. Come ConfCommercio abbiamo avuto l'incarico dall'amministrazione comunale di sovrintendere l'organizzazione di questi eventi e abbiamo richiamato la squadra vincente delle precedenti edizioni capitanata per conto di ConfCommercio da Fabio Barinesi con Pesaro Village, con Coccole Sonore e con tanti altri partner che collaborano all'iniziativa a cominciare dai volontari della protezione civile. Abbiamo come partner anche la banca di Pesaro e Alpitour. Anche Alpitour organizza alcune iniziative dedicate ovviamente ai bambini con lo spirito anche di promuovere la propria azienda. Insomma una città che si muove all'unisono per queste due giornate dedicate ai nostri bambini.